La miss di questo video non è casuale, infatti oggi parliamo di baseball americano in particolare di una storia che riguarda me personalmente e la squadra del cuore per cui tifo in Major League Baseball. Parliamo della mia prima e unica al momento partita di Major League Baseball vista dal vivo ed è una partita che coinvolge la squadra per cui indosso la maglietta, ovvero i New York Mets. Per chi segue questo canale sportivo per il baseball sa perfettamente che io sono un tifoso dei New York Mets, per chi non conosce il gioco del baseball basti pensare che i Mets sono sempre stati considerati la seconda squadra di New York anche perché se uno pensa a New York e al baseball la prima squadra che gli vengono in mente sono gli Yankees e non potrebbe essere altrimenti per la storia che hanno avuto, per i giocatori che hanno avuto, per il numero di titoli che hanno vinto, ovvero 27 e anche per il famosissimo marchio che è uno dei più brandizzati appunto a livello globale dal punto di vista del marketing. Va detto però a onore del vero che l'ultima squadra ad arrivare in finale della città di New York sono stati proprio i New York Mets nell'anno in cui ci sono andato io. Nel 2015 persero 4 a 1 contro i Kansas City Royals, ma vi voglio raccontare più in dettaglio quella che è stata un'esperienza per me meravigliosa. Io sono un grandissimo appassionato di baseball, come ho detto già nel video scorso su Mikakinen, è sempre stato il mio sport preferito da sempre, è il primo sport che ho fatto da bambino. Ho fatto il mini baseball, ho fatto 500 altri sport, sempre a livelli veramente infimi perché che se ne dica io a giocare sono veramente scarso per quanto mi impegni. Poi dopo aver fatto tante esperienze anche a livello sempre amatoriale, anche nel calcio, sono tornato all'ovile e da qualche anno ho ricominciato a giocare a baseball. E nel frattempo però l'ho sempre seguito sia in televisione quando lo trasmetteva Sky Sport, sia adesso quando ho deciso di parlarne attivamente sul tubo insieme appunto agli altri sport come i motori prevalentemente. E quell'esperienza del 2015 la ricordo ancora molto volentieri perché per chi è appassionato di baseball e segue il baseball americano andare a vedere una partita dal vivo è qualcosa che ti rimane impresso. Così come è rimasto impresso a me. Era il 2015, ero al primo anno dell'università, avevo quindi la possibilità di farmi più vacanze rispetto adesso che sono un onestissimo lavoratore. E per una serie di coincidenze fortunate io e mio carissimo amico Marco, che saluto e spero un domani guardi questo video, siamo andati negli Stati Uniti. Perché il suo fratello lavora attualmente là, il suo fratello è un ricercatore dell'Università della Virginia e avevamo organizzato una sorta di tour per varie città. Eravamo andati a Washington DC per andare a trovare appunto il fratello di Marco. Siamo passati poi per Philadelphia e il clou del giro fu New York. Prima di partire ci siamo fatti una promessa, un equo scambio. Più che altro io, che non sono un grande appassionato di musicals, sarei andato a Broadway a vedere uno spettacolo. In cambio lui mi avrebbe, tra virgolette, accompagnato a vedere una partita di baseball. Il caso ha voluto che la settimana in cui noi eravamo a New York c'era una partita di cartello, come si diceva un tempo nel mondo del calcio, nella Major League Baseball. Ovvero New York Mets contro Washington Nationals. Gli stessi Washington Nationals che hanno vinto il titolo. All'epoca era una partita che valeva tantissimo, perché i Mets erano lanciatissimi verso i play-off. I Washington Nationals però erano la squadra più forte, i favoriti erano i primi. E c'era una serie di tre partite consecutive in casa dei Mets al City Field, contro appunto quelli che quattro anni più tardi avrebbero vinto il titolo, quindi non una squadra di certo scarsa. Se i Mets avessero vinto quelle tre partite sarebbero balzati in testa alla classifica della divisione, la National League East, e avrebbero continuato la marcia ai play-off che effettivamente arrivò. Erano i Mets del nuovo arrivato Ioannis Cespedes, che c'è ancora nei Mets. Erano i Mets di Daniel Murphy, che fece in quei play-off una streak di sette fuoricampo consecutivi, se non sbaglio, una roba veramente folle. Ed erano i Washington Nationals di Bryce Harper, la stella del futuro, una di quelle rookie star arrivate prestissimo nel mondo dell'embole americano e che avrebbero fatto sfraccelli negli anni a venire, insieme a tanti altri campioni che sono passati di lì. Insomma, c'era una bella partita da vedere e, a prescindere da come sarebbe finita, io ero veramente contento perché da un appassionato di baseball e adesso anche giocatore amatoriale che segue questo sport dal 2004 e adesso siamo nel 2020, quindi manchi qui un po' di cultura, tra virgolette, me la sono fatta, è stato come realizzare un sogno, a maggior ragione, appunto, vedendo la squadra per cui tifo. Ed è stato tutto molto particolare, io mi ricordo che addirittura a un punto segnato dei New York Mets mi, tra virgolette, improvvisai telecronista da quasi appassionato di parte, no? E cercai di raccontare, ovviamente, in italiano, in mezzo a una foglia di americani, al mio amico quello che stava succedendo, una roba veramente incredibile, probabilmente gli americani che erano lì mi hanno sicuramente preso per matto. Lancio di Gonzalez, la palla passa! Lancio di Gonzalez, la palla passa! Lancio di Gonzalez, la palla passa, il segno di tutti gli americani, al fiero! I Mets sono in vantaggio! Addirittura, io mi ricordo, nel pre-partita, quando ci siamo avvicinati allo stadio, al City Field di New York, proprio l'avvicinamento a questa partita. Ed è stato carino perché dovevamo partire, di fatto, da Times Square con la metro, seguendo la linea viola, andare direttamente al City Field. E mi ricordo che io stavo cercando di spiegare a Marco, al mio amico, i fondamentali del gioco e chi potevano essere i giocatori più importanti di questa squadra, che appunto era quella per cui ancora adesso faccio il tifo. E mi ricordo che in un discorso avevamo parlato di Ioannis Cespedes, che all'epoca era un giocatore appena arrivato, un giocatore veramente molto forte. E io mi ricordo che praticamente in metro di fianco a noi c'era un signore che penso fosse un impiegato di banca, comunque era un signore ben distinto in giacca e cravatta, che pur non capendo l'italiano, ma capendo la situazione, cioè io che stavo spiegando al mio amico i fondamentali del gioco e in che posizione erano i New York Mets, che squadra erano i New York Mets, è intervenuto nel discorso e io e questo signore in inglese abbiamo parlato delle possibilità dei Mets di andare ai playoff e di che giocatore poteva essere Cespedes, di come Cespedes avrebbe potuto incidere su questi New York Mets. E io parlare con uno semi sconosciuto in inglese di Cespedes, dei Mets, delle speranze dei playoff e di questa grande playoff contro i Washington Nationals è stato veramente surreale, ma al tempo stesso molto molto divertente ed è una piccola cosa di aneddoto che ricordo con molto piacere. Arriviamo, come avete visto anche dal video precedente, che vi ho portato direttamente dal City Field, è un'immagine che ho conservato ancora perché è veramente bella, lo stadio era veramente qualcosa di clamoroso, c'era il tutto esaurito, era una partita veramente sentita e di cartello per i motivi che vi ho detto prima e fu una partita veramente tiratissima, una partita che i Mets hanno tenuto sull'1-0 per gran parte del match, poi i Washington Nationals, mi ricordo, riuscirono a pareggiare e arrivavano alla fine degli inning regolamentari, al nono inning quindi, sul punteggio di 1-1. Nel baseball, per chi non lo sapesse, così come in tutti gli sport americani, tranne in alcuni casi il football, se non sbaglio, non si può finire in pareggio e dunque ci sono i supplementari, gli overtime, il baseball non va a tempo ma va a inning e in questo caso, finché una squadra non risulta vincitrice, si continua ad andare avanti e dunque anche in questo caso si andò agli inning supplementari, agli extra inning e questa partita proseguì fino addirittura al dodicesimo inning, quindi al terzo inning supplementare quando la partita si concluse nel modo più bello possibile per chi gioca a baseball, ovvero un fuoricampo vincente. A realizzarlo, mi ricordo, fu Wilmer Flores, giocatore che ha fatto qualche anno nei Mets e poi fu scambiato, se non erro, qualche anno dopo e in quel gesto si rese veramente protagonista della vittoria importantissima contro Washington fuoricampo da un punto che consentì ai Mets di vincere la partita, i Mets giocarono in casa quindi se negli inning supplementari la squadra di casa segna un punto la partita automaticamente si dichiara conclusa e qui fu il fuoricampo singolo da un punto che permise ai Mets di vincere la partita contro i Nationals per 2-1 una partita che tra l'altro passò la storia perché nell'inning precedente la stella dei Washington Nationals, ovvero Bryce Harper, giocatore veramente fortissimo e leggendario adesso a Philadelphia, si fece spellere per proteste e io mi ricordo che partirono i cori fuck you Harper, fuck you Harper dal settore dove ero io e poi seguito da tutto lo stadio City Field da lì appunto la partita andò in direzione dei New York Mets che probabilmente approfittarono del momento psicologico dei Nationals che persero il loro leader tecnico in quell'occasione e vinsero 2-1 col fuoricampo di Flores che venne festeggiato come un qualsiasi vincitore in una partita di un walk-off home run veramente una sensazione bellissima fu una partita anche molto di tensione perché appunto una partita in bilico non è una partita che finisce 11-0 con un dominio predominante di una squadra sull'altra qui veramente erano due squadre veramente equilibrate che se la lottarono fino alla fine per arrivare ai play-off alla fine ai play-off ci arrivarono i New York Mets arrivarono addirittura vi dicevo fino alla finale alle World Series che però persero 4-1 contro i Kansas City Royals però quell'esperienza del City Field io me la ricordo veramente con tanto affetto e con tanto piacere sono stato contento di proporvi quella che è stata la mia personale esperienza in un campo da gioco di baseball americano e veramente spero con tutto il cuore di ripetere un domani questa esperienza quindi la domanda adesso è una per chi mi segue per il baseball fatemi sapere qual è stata secondo voi la partita più bella vista allo stadio e per chi invece non seguisse il baseball ma volesse sentire qualche altra storia se c'è qualche occasione in più per proporre un nuovo argomento per gli sport che tratto appunto un po' come uno storyteller in questo periodo di quarantena dunque il saluto ancora una volta da parte di Matthew Torgert e ci vediamo dunque a un prossimo video